Regione Toscana, il Consiglio regionale. Nell'ultima seduta del Consiglio regionale sono state presentate in aula le relazioni finali di maggioranza e minoranza della commissione di inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana. La cosiddetta inchiesta sulle indagini che lo scorso inverno aveva investito la Toscana. L'Aula ha votato con 22 voti a favore e 14 contrari la relazione presentata dalla maggioranza. L'approvazione del documento impegna gli organi della Regione per gli ambiti di rispettiva competenza a recepire le proposte operative offerte dalla relazione anche mediante iniziative condivise. Il Consiglio ha votato poi all'unanimità anche l'ordine del giorno, illustrata da Elena Meini, consigliere della Lega, sul potenziamento di ARPAT e degli organismi di controllo. Con questo atto si impegna il Presidente della Giunta e l'Esecutivo regionale ad operare al fine di garantire ad ARPAT con regolarità le risorse finanziarie per la programmazione pluriannale, necessarie anche a consentire un'intensificazione dei controlli rispetto a quelli già programmati, confermando gli indirizzi in materia di personale contenuti in una risoluzione del 2021. La nostra relazione è similare a quella di maggioranza per quanto riguarda la criminalità organizzata e le infiltrazioni mafiose in Toscana, mentre si contraddistingue per quanto riguarda l'inchiesta Cheu, che è la motivazione principale che poi ci ha portato a richiedere questa commissione. Ancora diverse domande senza risposta, però ho voluto guardare avanti e quindi ho voluto proporre una serie di attività, una serie di interventi dal punto di vista amministrativo per cercare di evitare che tutto ciò si possa ripetere. All'interno dei nostri ordini del giorno chiediamo il potenziamento di ARPAT, chiediamo una commissione, che è già la commissione esistente di garanzia e controllo, che possa occuparsi anche del tema della legalità, chiediamo il potenziamento del fondo antiusura, chiediamo poi che quando si presentano emendamenti in consiglio regionale, soprattutto su tematiche delicate come quella dei rifiuti, ci siano i tecnici della regione a garantire la procedura della presentazione delle emendamenti, e ciò che sta scritto al suo interno e poi chiediamo che nel momento in cui ci siano delle impugnative di fronte del governo su una serie di leggi votate dal Consiglio regionale, che sia lo stesso Consiglio regionale a decidere se impugnare oppure no tale legge, perché c'è stato detto che l'impugnativa è un atto dovuto, in verità lo abbiamo visto e la maggioranza ce l'ha dimostrato diverse volte, che ciò non è così e quando si può una legge si corregge. Non c'è nessun riscontro che quell'emendamento abbia avuto una conseguenza rispetto all'indagine del Cheo, questo credo che era l'intento che voleva dimostrare la minoranza, che c'era una correlazione tra l'emendamento presentato e l'indagine del Cheo. Io ricordo solamente due date, l'indagine è partita da Arpat nel 2017, l'emendamento è stato approvato nel 2020, mai applicato perché non è stato necessario applicarlo. In quel momento non c'erano i tempi tecnici per tornare in aula per modificare la legge, perché eravamo a fine legislatura e questo è il motivo per cui la Giunta si è opposta rispetto al ricorso che veniva fatto. Perché abbiamo rimosso l'emendamento? Abbiamo rimosso l'emendamento perché comunque su questa legge, che è davvero innovativa, unica in Italia, che gestisce il quadro normativo che consente la gestione mista degli impianti, pendeva un potenziale ricorso da parte del Consiglio di Stato. Quindi abbiamo detto, siccome non è stato applicato, siccome non serve, siccome comunque non serve lì dentro, lo togliamo così evitiamo che ci venga discusso tutto l'impianto normativo. Il primo tema è quello dello strumento. La commissione di indagine può essere richiesta soprattutto dalle opposizioni, ma in realtà ha pochissimi poteri istruttori e coercitivi nei confronti di soggetti che possono anche rifiutarsi di venire pur invitati. Questo è successo, complice anche il fatto che questa commissione si è svolta durante le indagini che praticamente non sembrano non finire mai. Quindi siamo anche curiosi di capire se e quali sviluppi ci saranno rispetto alle posizioni, soprattutto di coloro che svolgevano e svolgono ancora una funzione pubblica, sia politica che tecnica. Il secondo elemento poi sta invece nell'atteggiamento che la Giunta e una parte degli uffici hanno avuto durante lo svolgimento delle audizioni e dei lavori della commissione. Tante volte abbiamo letto sui giornali il giorno stesso della convocazione anticipazioni o spunti che la Giunta, per esempio, anziché venire a condividere con la commissione, in realtà rendeva pubblica. Terzo, c'è stata una divaricazione pericolosissima di cui ancora non si conoscono gli effetti fra ARPAT e struttura tecnica della Regione. ARPAT riteneva fondamentalmente che i consorsi che sono coinvolti in questa vicenda non fossero responsabili. Gli uffici tecnici dei servizi pubblici hanno invece fatto un decreto che la commissione ha scoperto per caso in cui rimetteva nel novero anche dei responsabili tenuti alle bonifiche anche i consorsi dei conciatori. E questo chiaramente ha necessitato un ulteriore prolungamento dei lavori della commissione e una valutazione non esattamente linea fra maggioranza e minoranza. Una vicenda incredibile e fa luce anche su tanti aspetti delle possibili infiltrazioni delle associazioni mafiose all'interno della Toscana, soprattutto ma non solo legate al mondo dei rifiuti e più in generale dello smaltimento dei reflui industriali. E questo è un tema, il vero tema serio, che la Regione Toscana è in ritardo su tutto e naturalmente la mafia e le associazioni criminali si vanno a inserire laddove chiaramente le norme non ci sono o sono costruite male. È stato impossibile arrivare alla definizione di una relazione comune perché a quello che sembrava la maggioranza aveva visto, aveva letto dai fatti che si sono succeduti nel corso di quest'ultimo anno una visione tutta propria che era impossibile da condividere e soprattutto che non sarebbe stata e credo che non sia accettabile anche da parte di quei tutti cittadini che non più tardi di pochi giorni fa si sono sentiti dire che le bonifiche alle aree inquinate dal CHEU saranno difficili e in alcuni casi impossibili. La relazione che abbiamo presentato come opposizione si è tenuta il più lontano possibile nel rispetto di tutte le persone coinvolte dalla questione giudiziaria ma non ha potuto fare a meno di un giudizio politico molto severo che è stato poi il medesimo che Rosi Bindi, certamente non una persona qualunque nel panorama politico, ha espresso nei confronti della politica che troppo spesso si autoassolve ed è velocissima nel cercare delle giustificazioni e delle coperture anche alle sue azioni che vengono pubblicamente considerate veramente nemiche di quello che è l'onore e la disciplina che ci dovrebbero caratterizzare. Questo credo che sia il messaggio principale che è emerso da questa commissione che purtroppo non potrà dare altre risposte per dei comportamenti da parte della Giunta che non sono stati collaborativi, spesso anticipava delle proposte che noi formulavamo all'interno delle commissioni secretate di cui comunque loro però evidentemente avevano accesso c'è stata poca disponibilità ad accogliere istanze che già negli anni scorsi con la commissione di inchiesta su rifiuti e discariche il Movimento 5 Stelle aveva presentato e anche le associazioni in difesa della legalità avevano più volte presentato. Tutto questo denota un atteggiamento come, ripeto, autoassolutorio da parte di questa maggioranza che dalla nascita della Regione governa, un atteggiamento di scarsa anche responsabilità nei confronti di quella commissione tra pubblico e privato che ci ha portato a una situazione che purtroppo ha danneggiato non soltanto le istituzioni ma i cittadini, le aziende, una situazione in cui non sembra di vedere una inversione di marcia proprio perché appunto non appare una mancata consapevolezza e un tentativo di correre ai ripari e di insabbiare la questione piuttosto che analizzarle e fare un bagno di umiltà nei confronti anche delle proprie responsabilità. Una relazione che non ha trovato un consenso unanime con due punti di vista differenti però un lavoro buono fatto dai colleghi della commissione d'inchiesta che di fatto in questo periodo hanno lavorato in maniera molto attenta. C'è un tema delicato che emerge dalla discussione, quella delle infiltrazioni mafiose che ci sono ovviamente in Toscana con il resto d'Italia e serve per contrastarle una politica che sia forte, quindi bene che il Consiglio regionale abbia affrontato questa questione, che abbia approfondito, che abbia reso trasparente l'operato della nostra regione e nel rendere trasparente l'operato della nostra regione è ammesso nelle condizioni tutti i consiglieri di approfondire nei dettagli quello che è stata una questione molto importante, quella del Cheu e non soltanto quello che può essere in tutte le questioni che riguardano gli appalti pubblici, soprattutto se pensiamo che arriveranno tante risorse rispetto al PNRR, è opportuno e doveroso dotarsi di anticorpi che consentano alle pubbliche amministrazioni di lavorare con tranquillità e alle aziende sane di poter lavorare nel massimo della trasparenza nella nostra regione. Due relazioni diverse dovute al fatto che ascoltando la relazione della Presidente Meini, che è persona estremamente pacata e valutativa nel dare giudizi, parlare in aula di domande alle quali ancora non è stata data una risposta fa capire che sul legame tra la nostra terra e la criminalità organizzata c'è ancora tanto da indagare e da scoprire. Credo inoltre che vi siano porzioni intere di territorio, penso a quella dell'Empolese con la strada regionale 429, penso a quella stessa del comparto del quadro di Santa Croce che ancora attendono delle risposte, perché sulla famosa strada 429 i carotaggi sono partiti da pochissimo, non ci sono ancora risposte e qui stiamo parlando dei cittadini che ancora non sanno se vivono, mangiano, camminano, fanno crescere i propri figli su un terreno sopra dei veleni o su un terreno sano. Io credo che la credibilità della politica passi nel dare una risposta certa, che può essere anche una risposta brutta, ma certa, ai cittadini. E il fatto che la Presidente della Commissione Cheu, la Commissione d'Indagine sull'infiltrazione mafiose più che Cheu, oggi in aula dica che vi sono tantissime domande a cui ancora non c'è risposta, me lascia molto basito da questo punto di vista. Ed ascoltare invece la maggioranza che con nonchalance plaude a una relazione che dimostrerebbe che la Toscana è la terra dei sogni in cui la criminalità organizzata non attecchisce e secondo me è una fotografia di una terra che purtroppo non corrisponde più alla realtà. Interrogazione del consigliere Marco Casucci della Lega sul tema Banca Monte dei Paschi di Siena. La risposta in aula del Presidente Gianni è stata l'occasione da parte del Consiglio per fare il punto sulla situazione e verificare le azioni intraprese e sollecitate negli ultimi mesi da Regione Toscana. Abbiamo chiesto al Governatore di monitorare concretamente e puntualmente l'attuazione del piano industriale 2022-2026 del MPS. Questo perché si va incontro a un maxi essodo di 3.500 dipendenti e tutto questo dovrebbe avvenire entro novembre per non perdere alcuni vantaggi che hanno come ad esempio i prepensionamenti fino a 7 anni. Siamo sinceramente preoccupati perché abbiamo dato tanto in termini di posti di lavoro anche in Toscana e non vorremmo che vi siano perdita di garanzie per quanto riguarda i lavoratori e che vi sia ulteriore aggravio per gli stessi dipendenti. Quindi occorre seguire da vicino. Il Governatore ha risposto confermando l'intenzione di seguire la vicenda attraverso la direzione Economia e Finanza e attraverso IRPET. Noi stessi seguiremo la vicenda perché siamo concretamente e veramente dalla parte dei lavoratori. Ma io devo dire che ho molto apprezzato quello che è avvenuto in questi due anni l'ho detto anche al Consigliere Cazzucci grazie al Ministro Franco che ha avuto il coraggio di ripensarci. Quando il Governo si costituì noi eravamo insediati da qualche mese io ero guida di una battaglia che ho trovato condivisa sia dalla maggioranza del Consiglio sia dal nostro Governo regionale sia anche dagli enti locali la provincia di Siena con Franceschielli ma anche il sindaco di Siena De Mossi pur non abbiamo lo stesso colore politico. Questa battaglia ha garantito il mantenimento a Siena della sede, del marchio, della direzione del Monte dei Paschi. Il nuovo amministratore delegato sta procedendo nel rafforzamento del Monte dei Paschi sotto gli indirizzi del Ministro Franco che ha avuto il coraggio di ripensare a quella che era un'operazione di inglobamento del Monte dei Paschi in unicredit addirittura agevolata fino a un certo punto da 8 miliardi che lo Stato avrebbe dato meno male si è ripensato e oggi certo il Monte dei Paschi dovrà chiudere qualche filiale dovrà diciamo così sostenere il percorso più accelerato per il pensionamento di maestranze ma niente di traumatico e invece il mantenimento in vita di quella che oggi è la banca simbolo in questa regione, la regione toscana, il Monte dei Paschi di Siena che vogliamo fare qualsiasi considerazione, la possiamo fare ma è la terza banca italiana.